...thriller by night, a cui seguono esibizioni in occasione di feste in piazza, compleanni, manifestazioni di beneficenza, matrimoni e un tour estivo, in collaborazione con varie tribute band nei locali pugliesi e non solo. Coreografie originali, abbigliamenti ufficiali e tanta passione sono gli ingredienti principali del loro show, di cui proprio qui, stasera, in occasione del primo Horse & Country Fest, avrete un piccolo assaggio, con la speranza di trasmettere a tutti voi un po' di magia nell'immortale star Michael Jackson. Grande applauso! Coreografie originali, abbigliamenti ufficiali, 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 abb Grazie a tutti 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 Grazie a tutti